Il problema è che l'Italia non è che può fallire così, già io ho dubbi sulla Grecia, ma l'Italia davvero non può fallire perché è come le grandi banche durante la grande crisi, è troppo grande per fallire e per non trascinare con sé il resto dell'Europa. Dobbiamo preoccuparci di quello che sta succedendo nel nord Europa perché in Germania quello che sopravvive dei famosi progetti europei di riforma dell'eurozona è pochissimo. Questo pochissimo sta assumendo sempre più i contorni di una sorta di paracadute, cioè la Germania sta ragionando su come riformare il fondo salva stati cosiddetto, su come trasformare il fondo monetario europeo, ma con una funzione che non ci deve preoccupare, deve diventare un'istanza che in qualche modo è in grado di aiutare i paesi in difficoltà dietro misure molto dure di aggiustamento e che può anche imporre eventualmente a un paese di tagliare il debito. Questo è nell'idea di qualche tedesco anche autorevole. Oppure un'altra cosa molto tecnica, ma il fondo di risoluzione delle banche è l'unica cosa che i tedeschi vogliono rafforzare in questo momento. Perché? Perché se l'Italia va, appunto di nuovo si spinge sull'oro del baratro, i mercati si scateneranno anzitutto sulle banche che sono il nostro anello debole e allora bisogna mettere a riparo il resto dell'eurozona. Quindi attenzione, ripeto, perché questa Europa qui sta cominciando a proteggersi dall'Italia e non a includere l'Italia in un progetto di avanzamento comunitario, di convergenza per un progresso dell'Unione Europea. E noi non possiamo dare stavolta la colpa a nessuno, perché i segnali che stiamo mandando da Roma sono inquietanti e credo che sia legittimo se gli altri si preoccupino.